Avrebbero estorto somme di denaro e generi alimentari attraverso minacce un giovane disabile, arrivando addirittura ad accolterlarlo a scopo intimidatorio. Un uomo di 21 anni e una donna di 29 sono stati arrestati dai carabinieri di Lamezza Terme. I provvedimenti sono stati effettuati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura Lametina. Le indagini dei militari dell'arma coordinate dalla procura sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla stessa vittima. Successivamente sono stati acquisiti attraverso le conversazioni estratti analizzate dalle varie applicazioni messaggistiche istantanee diversi elementi, quali richieste avanzate dai due di denaro fino a raggiungere la somma di 10.000 euro, le varie cessioni di soldi di altre attività, anche generi alimentari, che la vittima dopo l'accoltellamento sarebbe stata costretta a consegnare loro dietro minacce e comportamenti prevaricatori.